Grande emozione questa finale Scudetto, che emozione è stata? Grande, come hai detto tu? No, è stato un percorso parecchio difficile, anche perché abbiamo fatto un giretto nel girone per denti, quindi abbiamo parecchie partite sulle spalle, perciò diciamo che il fisico era abbastanza provato, però penso che la motivazione fosse veramente tanta, quindi abbiamo messo davvero tutto quello che avevamo e prima di tutto il cuore, penso, perché come ho detto prima di fisico ora è rimasta poco e niente, adesso ce lo godiamo tutto. Vicky vi aspettavate una finale così, il primo set dominato, il secondo un po' più equilibrato? Ma ci abbiamo giocato ieri mattina e diversamente abbiamo perso e per questo abbiamo fatto il gire nei perdenti, ci aspettavamo una partita difficile, una partita da combattere per una finale Scudetto e così è stato, all'inizio avevamo ancora un po' di energie rimaste, alla fine era tutto cuore, quindi contente. Catania vi ha portato bene, quindi? Catania porta sempre bene, sì perché insieme abbiamo già vinto uno Scudetto qua, quindi questa è la nostra seconda volta insieme e niente, è sempre molto molto bello e molto emozionante. Prossimi impegni? Riposo per un giorno, poi ci alleniamo e organizziamo a strada facendo. Grazie e complimenti, ciao! Ciao, ciao! Marco Caminati e Enrico Rossi, che gioia è stata quella di oggi? Ah, è stata una gioia immensa, dai, replicarci dopo il 2016, è stato veramente bello, sapevamo che ce la potevamo fare anche se eravamo coscienti che sarebbe stata durissima, infatti così è stata, siamo stati bravi a tenerci le ultime pallotte, a fare due partite perfette, e riuscite a vincere, bene, bene così. Quanta rabbia avevate per questa finale? Sinceramente rabbia no, perché gli avversari con cui giocavamo sono due nostri grandi amici, che stimiamo molto, che gli faccio i complimenti perché non ci aspettava nessuno, secondo me, che arrivassero in finale, invece hanno giocato veramente, veramente, veramente bene, sono arrivati in finale, quindi complimenti a Giacomo e a Davide, e non avevamo rabbia, eravamo concentrati, che è la cosa che riusciamo a fare in quest'ultimo periodo e siamo molto contenti. Quando avete pensato di poter vincere questo Scudetto in questi giorni? Allora, io devo essere sincero, cioè, l'ho pensato sin da subito, ho detto, se giochiamo come sappiamo giocare, potremmo avere grosse possibilità di vincerlo. È stata dura, come ho detto prima, però abbiamo giocato come sappiamo e fortunatamente è andata bene. E Catania vi porta bene? Sì, dai, ci sta portando bene, a sto punto speriamo che in quest'altro anno sia ancora qui, no, sì che è, dopo vedremo, comunque Catania ci porta sempre bene, quindi grazie. Grazie e complimenti. Grazie. Ciao, grazie.